Circuito degli internazionali di pattilaggio apprezzato da tutti gli atleti presenti. La storia dell'Aquila in questa disciplina è ben nota, ha sfornato campioni la città e collezionato successi. Si ritrovano in molti sulla pista dell'Aquila atleti soddisfatti per il risultato, giovani e meno giovani. Tra gli sportivi c'è anche Claudio Naselli che all'Aquila vinse un mondiale. Ho fatto secondo alla 200 metri e adesso c'è la maratona. Ci tenevo a dire che l'Aquila per me è nel cuore perché nel 2004 ho vinto i camionati del mondo in questa città. Spero che la pista verrà rimessa a posto in futuro perché secondo me è un grande impianto e l'Aquila nel pattinaggio è sempre stata importante e spero ritorni grande come era qualche anno fa. La sensazione del vincere la gara è un'emozione particolare perché comunque riesce a soddisfare i tuoi sacrifici, i tuoi sudori che giorno per giorno raccogli. Sono soddisfatto del risultato, è gratificante anche dopo tutti gli elementi che uno fa, i sacrifici che fa durante le giornate. Il percorso è molto bello, anche gli altri anni ho partecipato a questo evento e mi è sempre piaciuto. Sì, ritrovo molti amici che conosco anche magari in varie parti d'Italia.